Un, due, tre, via. E allora, come partiamo? Con queste cose... Facci sentire la tua voce, così impariamo a conoscerti nelle tue sonorità. Ah, la mia voce è un suono... è un suono, giusto? Potrebbe essere un suono la mia voce. Io direi che è suonata. No, no, secondo me è molto bella, anche la tua, Jean. Beh, ma io certo che sono bello. Bello tutto. Perché ad esempio la gente non si accorge nemmeno lontanamente della propria voce. Parla da quando è nato, arriva quasi a cent'anni e ancora parla senza sapere niente della sua voce. Ma più che altro non si ascolta. Parla, parla, ma non si ascolta, infatti. Ma non ascolta nemmeno gli altri. Questo è un concetto generale. Come impressione. Vivere nell'era delle trasmissioni e poi viviamo la mancanza di comunicazione. Cioè questo è paradossale. Con tutti gli strumenti che abbiamo poi non si comunica. Ma forse sono stati necessari questi strumenti proprio perché non riuscivamo a cavare un ragno dal buco col parlare. Ma i ragni stanno attaccati alla riannetele, mica i buchi. Anche nel buco. Anche nel buco. Io una volta scrissi una poesia sul ragno. No, nel buco ci sta il bruco. Io scrissi una poesia sul ragno. Ah, sì, la ricordo. Il ragno appeso ad un filo invisibile, lanciato nell'infinito, vado. Il ragno. Va, allora c'è tutta una teoria dietro, però non vorrei stare a risporla. La teoria del ragno. Il lancio verso l'infinito, bisogna osare, staccare quel filo, ombelicare, tuffarsi. Osare l'inosabile, appesi a un filo. Basta che non ti ci strozzi. È un po' difficile. Perché? Sul filo. Ma qualsiasi filo. Bucatina. Anche gli elefanti stavano sul filo di ragnatela e uno non ci si può strozzare. Scusa. Gli elefanti sul filo di ragnatela sono incredibili. Io me lo sono sempre chiesto. Sono simpatici perché poi la ragnatela vibra col pesetto dell'elefantino. Ma io mi chiedo, ma se i bambini in effetti sentendo questa canzone si sono mai posti il problema un elefante su una ragnatela? In vivico. In vivico. Tutti i giorni. Ma siamo sempre in bilico. Siamo tutti in bilico. Guarda, io ho letto giorni fa di uno che, un caso, uno solo, io per questo ci tengo molto, poi è l'aspetto fisico. Gli è cresciuta la barba all'indentro e stava morendo soffocato. E che c'entra col bilico? Il rasoio. Il rasoio. Ah, il rasoio, il bilico, il bilico di un rasoio? Sulla lama. Sulla lama. Sulla lama. Di un coltello. Di un coltello. Ma secondo te, Luana, quanto tempo passa un uomo a radersi ogni mattina? Quanti minuti, ad esempio? Non lo sanno. Facciamo una conversazione. Non si interessano. Facciamo, se volete, se lo desiderate tanto, facciamo una conversazione che duri il tempo di un radersi di barba. Allora io mi faccio finta di radermi e parliamo. Parliamo. Che cosa, mettiamo un po' di schiuma o rasiamo? No, anche quello elettrico, volendo. Ah, ma però non è meno romantico. Non è romantico. No, tipo ceretta, capito? A strappo. A strappo. Ah, però a strappo. Un attimo. A strappo. E via. Un dolore e via. E passa la paura. Allora, facciamo, come vogliamo fare? Come vogliamo farlo? Non lo so, come vogliamo fare? A strappo? Allora, innanzitutto il tempo che intercorre tra l'inizio della rasatura alla fine della rasatura, c'è tutta una cosa in mezzo. Un rituale. Abluzioni. Che poi bisogna sempre fare riferimento alla luna crescente, che non bisogna tosare. Eh, radersi, quando cala. Ma infatti quando cala. Anche i capelli, anche i capelli dicono che bisogna tagliarsi. Ma cala, sì. No. O com'era il detto? No. Allora, io so che a luna crescente crescono i capelli, quindi puoi tagliarti. A luna scema non salare. No. Perché poi ti fa male. A luna crescente non tosare. Eh no. Esatto. Quindi uno si deve radere a luna scema, cioè calando. E a luna poi. A luna del mattino però eh. A luna, a luna del mattino. A luna del mattino. Sì, perché naturalmente devi farlo a strappo perché il rasoio fa troppo rumore a quell'ora. Sì, a quell'ora sì. A strappo però devi star zitto, non devi urlare. Invece le donne si depilano in silenzio. Stanno le ore e lì dice viva e morta. Che farà? Che non farà? Uno per uno. Uno per uno. Non se ne sa. E sì, con le pinzette. Quanto tempo è passato da quando ci siamo incontrati nelle parole? Quando ci siamo incontrati nelle parole? Ci siamo incontrati? Ancora no, forse. No, tu sei lontano. Perché io mi ero appoggiato sul vostro rasoio. Guarda che fai male, ti fai male, ti tagli eh. No, mi ero appoggiato nella parte che non taglia. Ah vabbè, peggio per te se ti piace di più quella parte, il manico, contento tu. Vabbè, ma è piccolo. Eh vabbè, sta a guardare le dimensioni, è piccolo, è grande, bisogna che il rasoio usa. Comunque il tempo che scorre è un fatto importantissimo. Il tempo scorre. Dipende. Dipende dalla percezione del tempo. La scorrevolezza del fiume, dell'acqua, del tempo. Ma dove scorre? Ma lo sai che Novalis diceva che l'uomo è alla ricerca continua dell'infinito, ma trova soltanto cose finite. Quando è finita la metta? La butti? La butti. La butti. Dove la butti? Nell'indifferenziata o nella, come si dice là? Com'è? Differenziata, indifferenziata, nella plastica? Dove la butti? Non so, non l'ho mai capito. Perché poi di solito la lametta non è da sola. Esatto. La lametta dovresti dividerla dal rasoio e anche dall'involucro lamettare. Esatto. E buttarlo al posto giusto. Ecco. La plastica la butti nella plastica. E la lametta dove la butti? Nella fe... Nella... Boh. Eh, eh, eh. Che è? Un ragno? Un ragno che cade. Attenzione. C'è un ragno? C'è un ragno che cade. No, sono i vicini che fanno rumore. Forse si stanno radendo. La sento che urla. Forse si sta strappando. Che cosa ne pensate? Che cosa ne dite? Anzi, più che pensate. Perché non pensiamo noi. Non pensiamo. Diciamo, su siamo... No, lui non pensa. Io penso. Lui non è capace a pensare. Lui non è capace. Beh, perché c'è troppi capelli. Eh. Dicevi... Il tempo che finisce. Quando finisce? Quindi ha avuto un inizio. No. Non finisce il tempo. E perché? Tutto scorre. La lametta finisce. Ma che c'entra? Basta la lametta. Stiamo parlando del tempo. Tutto finisce. Se finisce la lametta. Se finisce... Tutto finisce. Finisce anche questa conversazione. La facciamo finita? La vogliamo far finita? Facciamola finita. No. Facciamola finita qui. Facciamola finita? La facciamo finita? Facciamola finita. Sì. Un momento di autocoscienza. Che abbiamo fatto? Quale coscienza? Non lo so. Io non ce l'ho la coscienza. Ma secondo voi abbiamo fatto bene? Che abbiamo fatto bene? Che abbiamo fatto? Che abbiamo fatto? Abbiamo fatto bene? Abbiamo fatto bene. Senti? Selli? Abbiamo fatto bene Selli? 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 Ti volevamo domandare. Vieni qui. Abbiamo anche Selli oggi. Sentiamo il parere di Selli. L'esperta? Volevamo chiederti. Ecco. Abbiamo fatto bene o no? E con ciò cari amici vi salutiamo. Ma è vero quando dicono che i cani e i padroni un po' sassomigliano? Guarda le orecchie, guarda le orecchie. Guarda, 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 guarda. Ciao Selli. Grazie. Spalle. Delle vostre meravigliose parole, delle vostre voci, del vostro magnifico aspetto. E del tuo tempo. Vabbè. Del nostro. Del nostro tempo. Perché la nostra vita continuerà a vivere insieme ogni giorno sugli schermi di Cultura Web TV. Dove tutto è relativo. Grazie. Grazie.